Il comico Giampaolo Cantoni ha tenuto il 14 agosto uno spettacolo di beneficenza senza pretendere nessun compenso per aiutare due ragazzi che lavorano e fanno molti lavori per il comune di Berceto e quindi per i cittadini. Subito dopo il rovinoso terremoto del 24 agosto, Cantoni si è proposto di fare una serata, una giornata di beneficenza per raccogliere i fondi per i terremotati. Insieme a lui hanno aderito, grazie a lui, altri 15 artisti, attori, musicisti, complessi musicali e da quando abbiamo lanciato l'idea di farla a Berceto, il 18 settembre, lungo tutta la giornata, dalle 10 del mattino alle 24 di sera, altri gruppi musicali, altri attori e altri artisti si sono aggiunti. Sarà quindi una grande giornata di musica, di teatro, di bazelletti, di divertimenti a carattere provinciale che si svolgerà a Berceto. In quell'occasione il centro storico sarà chiuso, presidiato dai volontari della protezione civile che raccoglieranno le offerte per le zone terremotate. Decideremo poi insieme a che sindaco consegnare direttamente il bonifico dei soldi raccolti di un comune, ovviamente terremotato. Spero che sia una manifestazione che richiami tante persone e voglio ringraziare tutti gli artisti che già hanno aderito, quelli che aderiranno. Voglio ringraziare in modo particolare Cantoni che ha avuto quest'idea, Cantoni Giampaolo e voglio invitare tutti i cittadini di Parma a trascorrere una giornata a Berceto il 18 settembre.